ragazzi siccome come al mio solito mi sono scordato questo di lasciare il link del canale di Manuel in descrizione lo lascerò sotto questo video però voglio aggiungere un'altra persona al libretto dei saluti non un'altra persona voglio aggiungere gli ultimi commenti sotto al video che ho pubblicato poco fa mi hanno commentato e voglio aggiungere ai saluti queste due persone che mi hanno commentato sotto al video di prima scusate la porta quindi non lo scriverò sul foglietto farò direttamente la foto alle persone che io saluto e le metterò qui nel video quindi godetevi quest'altra parte dello speciale 100 iscritti ciao bella tutta ragazzi con questo nuovo video speciale super speciale dei 100 iscritti voi vi chiederete ma lo speciale è solo esplodere un pallone no ne porterò tanti altri di speciali però tra l'altro il pallone è di amico scusate non vorrei rompere il trucco non dovrei mettere le campi non c'è la mia vita non c'è la mia vita uno è più oltre uno è più oltre uno è più oltre mancina uno è più oltre uno è più oltre Non mi sorprende. Non mi sorprende. Ah. In the dream. Impossible.